Un mercato in ripresa, nonostante l'impatto dell'inflazione che limita il potere d'acquisto delle famiglie, è un quadro geopolitico internazionale ancora instabile. Ad aprile i consumi in Italia tornano ai livelli pre-covid, con una crescita dell'11,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Emerge dall'osservatorio permanente sull'andamento dei consumi nei settori di ristorazione, abbigliamento accessori e non-food, elaborato da Giacala per Confimprese. La ristorazione mette a segno una crescita del 12,3%, bene anche il settore abbigliamento accessori. Altro retail mostra un aumento più contenuto. Nei canali di vendita si segnala una ripresa complessiva, con andamenti sostanzialmente in linea con il totale del mercato. A livello geografico le aree di maggiore salute sono il centro e il nord-est. La migliore regione è il Veneto, più 15,9%, la peggiore è la Campania, più 5,6%. Tra le province spicca Ferrara al primo posto, mentre il fanalino di coda è Cremona.